Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Siamo qui oggi con Emanuele Taccardi, che è il videomaker, che cura proprio le immagini, le riprese e il montaggio di questo canale che è Cantare in Libertà. E oggi vedremo appunto come si fa per realizzare un videoclip musicale, professionale, dopo la sigla. Bene, e quindi Emanuele, da dove si parte per realizzare un videoclip? Allora, prima di tutto, il primo step da realizzare è avere con noi già il pezzo registrato, cioè bisogna avere prima la produzione musicale, diciamo. Quindi l'audio deve essere finito e la canzone la dobbiamo già aver registrata. Già registrata in studio e già pronta per l'uscita e per la registrazione, diciamo. Poi invece successivamente, una volta che abbiamo l'audio, il secondo step invece è sedersi a tavolino e fare un brainstorming, diciamo, con l'artista, con il cantante, per vedere cosa vuole trasmettere sia dal punto di vista della canzone, diciamo, del suo inedito, e sia dal punto di vista del video. Magari se la canzone è un po' triste e magari ha delle evoluzioni, ad esempio felici nel ritornello, bisogna cercare di far evidenziare anche nel video, quando una parte, diciamo, diventa un po' più triste, magari con dei colori, con delle immagini un po' più lente, mentre nel ritornello bisogna far, diciamo, esplodere con colori, con, diciamo... Più vivaci. Più vivaci, più... Che diano l'idea... Più dinamiche, diciamo. Proprio di questa felici. Come nel caso della canzone che uscirà fra due giorni. Sì. Che è la mia canzone che si chiama Dentro di me, quindi noi ci siamo seduti a tavolino, e c'è proprio una parte iniziale triste, diciamo, della strofa, mentre nel ritornello è un ritornello positivo, ed Emanuele farà uscire dei colori diversi, dando un'immagine più felice. Sì, noi, per esempio, abbiamo utilizzato delle immagini un po' più aperte, un po' più dinamiche, un po' più ariose, diciamo, per cercare di enfatizzare proprio questo stato d'animo che Mario, nel suo pezzo, voleva comunicare. Quindi, poi, scritta un po' la storia del video, di quello che sarà, e scelte anche poi le location... Le location fondamentali, direi. Per dove andare a girare questo videoclip. Scelto, insomma, il posto e tutto il resto, si passa poi all'azione, quella... Alla vera e propria registrazione, ossia la produzione delle immagini. Ovviamente noi siamo partiti da un'idea, partiamo sempre da un'idea, ma poi sul campo c'è sempre qualche variazione. Qua, magari un angolino che non avevamo visto, magari nel sopralluogo, oppure qualche scena... Un'aula. Particolare, oppure qualche luce particolare che vogliamo sfruttare, allora lì c'è da prendere la telecamera e registrare. Esatto, esatto. Infatti è capitato che abbiamo cambiato alcune idee, perché passando proprio per raggiungere dei posti... Oh, c'è un cane di legno! Dico delle cose a caso, però può capitare di trovarsi, insomma, imbattersi in dei posti che ci piacciono e quindi, ovviamente, come in qualsiasi forma d'arte, il video si può evolvere e evolificare. Si può evolvere, ovviamente, in positivo. Ebbè, certo, per quello che vogliamo noi poi comunicare. Quindi, una volta poi realizzate tutte le immagini, magari in posti anche diversi, si passa a quella che è la post-proversione. Che è il quarto step, diciamo il montaggio. Una volta, diciamo, impostate anche lì l'idea iniziale su come cercare di dinamicizzare il video, oppure su come cercare di renderlo più fedele alla canzone, o anzi, meglio, più fedele alle emozioni che vuole comunicare l'artista, in questo caso il maestro, per cercare di rendere il video più emozionante possibile. Esatto. E soprattutto, poi, nella fase del montaggio, ci sono delle magie che ormai si possono fare al computer, dove le immagini che noi registriamo sono immagini, diciamo, neutre, così come le vediamo ad occhio nudo, e poi possiamo dare dei tagli e dei filtri. Dei tagli cromatici, diciamo, sempre in relazione alla canzone, al pezzo. Magari, se la canzone è un po' più cupa, è un po' più triste, è meglio utilizzare colori, oppure una color correction un po' più spenta, un po' più fioca. Più grigia, diciamo. Un po' più grigia, un po' più, diciamo, un po' più chiusa. Quindi, poi, dopo aver montato tutte le immagini e aver realizzato, insomma, il nostro video già tutto montato, c'è l'ultima parte... Che è la color correction, diciamo, la colorazione che noi andiamo ad applicare sulle immagini in flat. Ad esempio... In flat significa neutre, cioè senza filtri, senza niente. Senza contrasto e senza saturazione. Noi andremo a girare queste immagini in questo profilo, in modo che poi, in post-produzione, avremo un controllo totale e personalizzato dell'immagine in cui noi vogliamo andare a rappresentare, a far, diciamo, emergere. Si vede moltissimo, poi, la differenza... Tra la ripresa originale e, diciamo, la ripresa elaborata, diciamo... Quindi possiamo far vedere... Facciamo un esempio. Quindi, un'immagine prima era così... E adesso la stessa immagine è diventata... Colorata è così... E sentire ogni raggio... Trapassarmi dentro... Dentro di me... Ovviamente, tutto quello di cui noi abbiamo parlato è solo un punto di vista, diciamo, molto generale, generico di quello che deve essere, però poi... Ovviamente, poi sta chi, diciamo, fa il video, chi realizza il video a scegliere gli obiettivi, le inquadrature, gli schemi di luce, anche la tecnica nel montaggio. C'è tanto studio dietro, tanto lavoro, che negli anni si perfeziona anche da parte nostra, diciamo. Ovvio, bisogna davvero studiare tanto, anche in questo campo. E quindi, per realizzare un videoclip che sia professionale, sia fatto bene, io, ovviamente, vi consiglio di affidarvi a un esperto, a una persona che fa questo come lavoro e che ha studiato tanto come il nostro amico... Che poi, questo sembra... È Giorno. Però... Da quattro... Aveva quattro anni... No, no, no. Da 25. Comunque ha un sacco di esperienza. Bene, ragazzi, questa puntata finisce qui. Io ringrazio Emanuele Taccati. Grazie a te, Mario. Per averci aiutato. Fateci sapere, se avete delle domande anche da rivolgere ad Emanuele, scrivetelo qui sotto nei commenti. E vi ricordo, il 5 maggio, quindi fra due giorni da questo video, domenica 5 maggio, esce il mio inedito, che si chiama Dentro di me. Fateci sapere se vi piace, sempre attraverso i commenti. Esatto. E iscriviti, diciamo, se non vi piace, ecco il passo. Ciao, se ti è piaciuto il video, ti invito a mettere un bel mi piace qui in basso e se non l'hai ancora fatto, ad iscriverti al mio canale. Seguimi inoltre anche sulla pagina Facebook Cantare in Libertà e se hai delle domande da rivolgermi, non esitare a scriverle nei commenti. Grazie.